Il gelicidio non ha risparmiato nemmeno il sito archeologico di Veleia Romana nella comune di Lugagnano. All'interno sono cadute piante, ci sono rami pericolanti. In seguito al sopralluogo effettuato insieme alla soprintendenza di Parma e Piacenza, il sindaco Jonathan Pappamarenghi ha deciso di chiudere il sito fino a domenica compresa. Quello che sentite in sottofondo è il rumore di una motosega. Sono davvero tanti cittadini impegnati per ripulire le aree dove sono crollati i rami e le piante. Da quando siete impegnati per questa attività? Ah, da oggi all'uno e mezzo. Stiamo liberando un po' questi rami che pendolano giù perché se parcheggia qualcuno qua la macchina si rompe. Siete volontari? Volontari così, tanto. Farete anche domani? Se non finiamo sì. Che situazione avete trovato in generale? Eh, pessima. Come potete vedere alle mie spalle dai tanti rami e alberi spezzati sono davvero disastrose le conseguenze del gelicidio sulla vegetazione del territorio piacentino. All'interno del bosco ci sono persone che lavorano per cercare di mettere in sicurezza la situazione. Non sarà mai vista una situazione simile? A memoria anche dei pionzioni del territorio una situazione di questo tipo non è stata veramente mai vista. Sicuramente un grazie veramente sentito va alle squadre che abbiamo attivato circa 40 persone che hanno permesso collaborando anche a titolo gratuito veramente all'ente di riaprire senza chiamare né protezione civile né vigili del fuoco tutta la viabilità. Serviranno risorse importanti ma soprattutto un via libero con i controlli opportuni chiaramente per intervenire su dei boschi che oggi sono decimati e che fra qualche mese rischiano di seccare e di creare ulteriori danni. Da quanto tempo non dorme il sindaco di Lugagnano? E beh oramai sono tre giorni da lunedì. Stessa situazione anche per il sindaco di Morfasso Paolo Calestani impegnato da tre giorni insieme a cantonieri, operai e volontari nel comune di Morfasso per la pulizia e la messa in sicurezza delle strade da alberi e rami pericolanti. In tutta la Val d'Arda sono ancora diverse le frazioni prive di corrente elettrica.